Sì, ma se contano poco le consultazioni sul Quirinale Vero, vedete cosa possono contare quelle sul Quirinale di riserva. Noi contiamo non sul sostegno a feltri dei forzisti dissidenti, noi contiamo onestamente e spontaneamente per dare un segnale di compattezza sul voto di Berlusconi. Il voto di Berlusconi, di Romani, di Brunetta, di Toti, di Fitto, di Tizio, di Caio. Sul voto compatto del centrodestra che poi dalla quarta votazione manterrà gli accordi Gorrenzi e farà quello che riterrà di fare. Ripeto, non capisco il fuggire in una scheda bianca. C'è un'opzione e poi ognuno manterrà gli accordi che ha preso in altre sedi, però almeno domani mi sembrerebbe un segnale di buon gusto nei confronti dei milioni di italiani che vorrebbero tornare a credere nel centrodestra. Ecco, mi spiacerebbe non ci fosse il voto di Alfano, questo sarebbe per me un crucio che mi toglierebbe il sonno la notte probabilmente. Molto velocemente due cose, una diciamo dichiosa a quello che diceva Matteo, chiaramente ci aspettiamo che i primi a convergere su questa nostra proposta siano proprio quelli che hanno dimostrato in questi mesi maggiore libertà, maggiore capacità di dire come la pensavano e quindi ovviamente guardiamo con grande attenzione a quelli che vengono definiti dissidenti piuttosto che le minoranze interne. La seconda cosa, scusatemi, notizia invece di logistica, ho sbagliato a dare l'appuntamento dell'iniziativa di Fratelli d'Italia sulle elezioni diretta del Capo dello Stato che non è a Piazza Montecitorio ma a Piazza della Rotonda, quindi a Piazza e il Pantheon sempre alle 15 di domani.